Ciao ragazzi, sono Matteo Dallosso, un vostro dipendente alla Camera dei Deputati. Questa sera, che dire, tanto lo sapete già, tantissima partecipazione, tante domande, abbiamo cercato di rispondere in quella cloaca di ladri. E niente, speriamo, non speriamo, dobbiamo vincere le europee, dobbiamo vincerle, dobbiamo vincerle, non abbiamo più alternativa. Non voglio andare all'estero a lavorare, già sono tornato dall'estero, ma sono tornato per cambiare questo paese, perché io non lo lascio in mano ai ladri, non lo voglio lasciare in mano loro. E come dice la mia storia, vi saluto così, con un sorriso, con un sorriso, il sorriso veramente è l'arma più potente che abbiamo. Un sorriso li seppellerà, vinciamo noi, vinciamo noi.